raga Un anno fa ma quindi non lo so è o belle reteic cosa no raga raga tanto di cappella Ora sono una scemmia raga sono una scemmia porca miseria Ma che cazzo però prima di iniziare mi raccomando supportatemi nello shop con il codice creatore Diego trattino abusivo tagatemi su instagram link in descrizione ora siamo pronti per andare a vedere queste ragazze fuori di testa Ci sono delle premesse da fare uno queste sono le ragazze che ho selezionato io sicuramente si saranno ragazzi più forti però non posso guardare tutto il mondo Due molto probabilmente dirò che per essere delle ragazze sono veramente forti non che le ragazze siano più scarse dei ragazzi Però è vero che è più difficile trovarne forti perché sono di meno ci sono molti più ragazzi che giocano a forza niente che ragazzo ci è andato di fatto Quindi ragazzi è molto più difficile trovare ragazze forti Terza premessa non mi sono informato che effettivamente siano loro a giocare Perché ragazzi noi qua in italia abbiamo avuto soprattutto sul mio canale problemi con delle ragazze che facevano finta Però ragazzi sono in buona fede Sono in buona fede secondo me giocano loro Fatte tutte queste premesse noiosissime direi di iniziare da lei 1310 iscritti pochissimi montaggi di tre mesi fa ho visto l'anteprima e sono uscito fuori di testa perché ho fatto veramente bene Non fiata aiutatemi non riesco a parlare in questa stanza fa troppo caldo Complimenti all'editor ma c'è un problema è protetta da copyright L'editor mostruoso ragazzi vediamo solo all'inizio solo all'inizio Solo all'inizio vi faccio vedere l'editor Cosa ha fatto Pam 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 Non posso star così ragazzi non posso star così però fidatevi è bellissimo Diciamo che montaggi lasciano il tempo che trovano perché ragazzi le clip si possono settare Sono magari le clip della vita vediamo come gioca perché ha pure vinto soldi a earnings Questa che vedete in webcam è lei che gioca probabilmente anche in live quindi niente scam è lei che gioca nessun dubbio Lascerò il canale in descrizione sia su che quello delle altre ragazze Il problema sono le mesh e le texture che sono troppo basse sembra mobile però ragazzi muove molto bene sta giocando con il suo duo Il ping non riesco a vederlo perché probabilmente è una live ricaricata non registrata però vediamo come si comporta Vediamo come si comporta si blocca un pochino Compagno push aggressivo magari è il ragazzo non lo so ragazzi non lo conosco E si portano a casa questo è un highlights no delle partite che ha vinto 30 minuti non lo vedremo tutto Voglio vedere un attimo come si comporta in competitive 28.000 punti ok 28.000 punti raga per me sono tanti perché non ci gioco quindi fatemi sapere se sono tanti Non lo so sicuramente non sono pochi sicuramente non sono pochi Ok entra dentro box Bello uno se l'è fatto bella Uno è andato let's go fatemi sapere cosa ne pensate Raga push sono aggressivissimi Oh cecchinata no no cecchinata così no Ok il compagno riesce a tirarla su e invece no Pushano push sono aggressivi la spammano A 3 di vita a 3 di vita Oh mio dio lo sparo Ok lo sparo a splash lo sparo a splash ottimo modo Oh il ragazzo è forte eh Il ragazzo è forte Riesce a tirarla su Riesce a tirarla su hanno tutte le cure del mondo Pesci scudini scudoni E spara splash quindi stanno benissimo Materiali full sono rimasti ancora i 58 e stanno fightando come pazzi Il compagno sta fightando sale Sale un po' di retake coperta Non so se sono retake non lo so raga però è efficace L'importante è l'efficacia Hitta Ok il compagno se lo fa mamma mia raga On fire l'altro dov'è l'altro dov'è Quelli che li avevano pushati Quelli che li avevano pushati dov'è l'altro Ok jump è jumpato Jumpato vediamo se riescono a prenderlo Vediamo se riescono a evitarlo un pochino Niente Niente Ok comunque ragazzi Oh ma l'altro sta già là Secondo me lei è più da support Ok l'ha ucciso L'altro è un mostro raga Lei fa da support Ma veramente da support Arriva sempre dopo È l'altro che è troppo veloce nel pushare Raga ma pure è bella veloce comunque È bella fluida e veloce Un altro team Un altro team L'hanno distrutto Un altro team L'hanno distrutta Vediamo altri due minuti Ok Oh ragazzi Il compagno sta facendo il panico Il compagno sta facendo il panico Da 7 kill Lei è soltanto una kill però raga Sempre lei Raga è incredibile È schicata È sfortunata Questa ragazza è sfortunata Ok L'altro pusha Lei è sempre dietro Vedete Arriva sempre dopo Quindi supporta il compagno Supporta il compagno Vedo più Ok è entrata Bello Let's go Comunque ragazzi Questo gameplay è lei che è sicura Cioè Non ho visto sparare Quasi mai Ho visto più Oh mio dio Ha rischiato tantissimo Ha rischiato tantissimo Fatemi sapere cosa ne pensate Naturalmente senza audio originale Ragazzi è tutto più brutto Ma bellissimo Ma che ping ha 3 Ragazzi l'ho visto 30 Ok 20 magari Era la lobby Però non è buonissimo In pubblica quanto avrà Avete visto raga Quanta è tecnica però Piramide dentro Veloce Però è troppo blur Non si capisce Doppio edit Questa pubblica 50 di ping 41 41 di ping Cioè 50 Non è buonissimo Quindi un punto a favore Molto forte Molto tecnica Qua sono le clip migliori Naturalmente GG Basta Senza audio è bruttissimo Ci ho messo un'altra musica Ma non ha senso Perché è editato Al ritmo di una musica Passiamo alla seconda ragazza Ovvero Genna 1760 iscritti Sempre pochissimi Solo montage A quanto pare Anche corti Full screen Let's go Non dovrebbe essere protetta Da copyright Allora Giocata a make up Anche lei Anche se la senza Sembrerebbe basta Bel doppio edit Entra Bel 122 Il ping è buonissimo Anche la qualità audio E video Sembra ottima Raga 21 di ping in pubblica Tanta roba Questo stava fermo Vediamo come si comporta Bello il retake Uh Ma non What Cosa No raga Scusate voglio rivederlo Non è velocizzato vero Non è velocizzato Non è velocizzato Uh Ma se No raga Ok Fatemi sapere secondo voi Qual è più forte Contando anche il ping Eccetera Raga sembrerebbe mostruo Eh Eh Ok Raga L'ha distrutto completamente Quelle erano le realistic Quelle erano le realistic Questa è pubblica Questa è creative Free build Eh Ok No non è free build Semplicemente una clip settata Ma molto brava Molto veloce Sempre pubblica Doppio edit Lo distrugge Mamma mia raga Oh un altro Una vita Oh Raga No aspettate Cioè raga Aspetta Non sono pronto Quanto è forte Quanto è forte Quanto è Bel Che prefire ha fatto Raga sta distruggendo tutti È mostruoso Ok che sono le clip migli Raga ma No no raga No vabbè Raga Cosa stiamo dicendo Riesce a prendere tutti i muri Eh Come ho detto Ha un ping Buonissimo Però raga è fortissima È un mostro Distruggerebbe la media Dei miei amici Se non di più Ma pure di più Raga è veramente forte La vorrei vedere Non lo so In fight contro qualcuno Del mio team No raga è fortissima Allora 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 Se raggiungiamo i 3000 like Sotto questo video Le scriverò E la farò sfidare Contro uno del mio team Cioè ragazzi Ma secondo me I batte tutti Quelli del mio team Non li batte tutti Però raga Non li tieni testa Cioè tranquillamente Ma non è che è solo fluida Quando vuole essere veloce È velocissima Una mira pazzesca Ma Che è successo Ok Ok la mia connessione E in più raga È tecnica Oh che cecchino No raga Clip con il cecchino È emozione Potrei emozionarmi Raga clip con il cecchino Ok che stavano fermi Però mi fanno sempre emozionare Soprattutto se sono fatta da una ragazza Oh raga GG veramente GG veramente Mostruosa Niente da dire Niente da aggiungere Mostruosa Come stavo dicendo Fluida Veloce quando deve essere veloce Mira pazzesca È in più tecnica Conosce tutte le tecniche GG raga GG complimenti Questo è in pubblica Vediamo Clip con l'audio Sentiamo anche la voce Non parla Qualcuno è cresciato No questa Quella era la sua voce Quindi sarò clip divertenti Gente che crasha Mira vediamo 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 Porco due Che cacchio devo dire Cioè Potrei emozionare Potrei urlare come una scimmia Potrei dire Non ci credo Però non sono una scimmia Ancora Quindi Non urliamo Raga Basta Cioè Fortissima Complimenti 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 Fatemi sapere cosa ne pensate Ma per me Mostruosa Mostruosa Clip divertente alla fine Cosa sta facendo Cosa trovo Culo Passiamo alla terza ragazza Emma Soltanto 648 iscritti E vediamo Questo montage Perché è l'unico senza copyright Andiamo Una volta che vedo Quindi Ok Ok Ci sta Il problema è che abbiamo visto l'altra prima Quindi Non lo so eh Oh Eh Ok No non c'è il tempo Cavolo Non c'è il timer Ok qua c'è il timer Voglio vedere le clip No raga Io non so quale sia più Anche lei MK Vabbè 10 di ping In pubblica Lei god Abita sotto i server Della epic Però raga Mira mostruosa Come al solito clip Oh mio dio Poi dipende anche dal monte Ragazzi Cioè Vabbè Sì Ma cosa fa Ragazzi Guarda La mia faccia La mia bocca Questo tipo Con la mascella Per terra Box fight Raga Fluidissima Velocissima Fluidissima Velocissima Mira mostruosa Anche lei Raga Facciamo così Se raggiungiamo 3 mila like Scrivete voi Nei commenti Quale ragazza Devo contattare Per farla sfidare Con i miei player Perché ragazzi La potrei sfidare anch'io Ok Lei è al ping Un po' meglio Del mio naturalmente Però Cioè Un po' Tanto meglio Che con il 4G Però raga Tanta di cappella Oh Ora sono una scimmia Raga Sono una scimmia Porca miseria Raga Ma che cacchio Diciamo Thanks for watching Ma Raga Raga Non scherziamo Mostruosa E ma Madonna Quarta ragazza Sì Non so come si pronunci 2690 iscritti Per adesso La più famosa Ed anche la prima Da console Abbiamo visto Tutte i pc players MK Ora da console 60 fps Quindi let's go Naturalmente ragazzi Non c'è paragone Tra i console player E i pc players Perché i pc players Sono molto più avvantaggiati Quindi Termini di paragone Molto diversi Non mi piace troppo Il montage Perché i colori Non mi piacciono Non si vede neanche Se siano velocizzate Però Bello Non male Raga Comunque Stavo dicendo Naturalmente I pc players Sono molto più avvantaggiati A parte gli fps Ma anche l'input Delay E la grafica Palla Le ombre Che danno fastidio Quindi Non c'è proprio paragone Però potrei sempre farla sfidare Contro i miei player Della sezione console Ovvero Manulix Leonardo Eschius Quindi lascia dei like Si possono fare tanti video Non è male Raga Non è Però non si capisce niente Voglio vedere se c'è qualche altro montage Ok La canzone di quella precedente Probabilmente è una delle migliori Senza copyright Però è passato a pc Attenzione Quindi pad da pc E cambia completamente tutto Infatti sembra molto più fluida Cambia completamente tutto Perché esistono anche programmini Tipo l'anti micro Che permette di utilizzare Macro Ok Quindi Praticamente Raga Fate quello che volete Avete la stessa velocità Di un mk player Con l'anti micro Oh raga Brava Brava Il problema è che abbiamo visto Non lo so Quelle di prima Che sono fuori di testa Ragazzi Le ragazze di prima Probabilmente sono le più forti Che vedremo adesso Non so se ci sarà qualcun'altra Che mi emozionerà di più Che mi stupirà Però Raga È bravissima Ma dopo aver visto quelle Non c'è proprio paragone Quindi Non lo so raga Però brava Molto brava Molto fluida Molto tecnica Sa fare le cose Raga Sa fare i retake Da pad player Brava Niente male Niente male Il problema è che è stata rovinata Cioè abbiamo visto prima le altre Che lei Doppio edit Let's go Ok Non so se le clip Siano setappate Però vabbè dai Si vedono un po' le skills L'avversario non ci stava capendo Niente Un po' di retake Sale coperta Attenzione Qua doppio edit L'avversario Questa setappata Glamorosamente Però raga Non è per niente male Prefire Bello Bel prefire Vabbè raga Non è per niente male Non è per niente male Si potrebbe sempre far sfidare Contro In realtà non è più da console Quindi non avrebbe senso sfidarla Però Non lo so Ok Clip in pubblica Avversario Eh no Cioè Che Cosa sto vedendo Ah ok Cioè Ok Quinta ragazza 50.000 iscritti Questa è famosa Probabilmente la conoscerete Già Fatemi sapere nei commenti E raga Ho pure belle Visual Il problema è che vedo tutto Copyright Per adesso Ah Gioca con Fate Sway Ok Probabilmente è più famosa di me Questa ragazza ha un problema Carica soltanto Montage protetti da copyright Quindi non guadagnerà niente da youtube Guadagnerà da twitch Però Ho trovato Montage risalente un anno fa Quindi è vecchio raga È vecchio Sarà migliorata sicuramente Però vediamolo Sono troppo curioso Vediamo com'era un anno fa Let's go Dai Parti Parti Vediamo Da pad ragazzi Eh Raga Eh Un anno fa No Raga è mostruosa Ho capito perché A 50k Sicuramente Usirà qualche programmino Non lo so L'antimicro Raga Non lo so È troppo Ma La pad Eh Ok Fatemi sapere Chi è la più forte Per adesso Raga E non lo so Mi astengo Ho visto tre mostri sacri Questo è un anno fa Raga E in un anno Uno migliora tantissimo Cioè Cioè Raga io mi sto emozionando Sto rimanendo Sto rimanendo Raga io mi sto emozionando Sto rimanendo a bocca aperta Non sto parlando Sto rimanendo